Serata importante, una di quelle serate in cui dobbiamo dimostrare di non poter essere necessariamente bravi solo quando siamo spalle al muro, solo quando dobbiamo vincere le partite bivio, bisogna anche vincere le partite che diano un indirizzo, un percorso, una rotta al girone di ritorno. Ias la porta su Teo, Teo subito per Rafa, accorcia Joao Ferreira, ecco che continua la sua corsa, Teo la mette in mezzo, tiro, gol! Ha segnato Loftus-Cic, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi! Lo, 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 Loftus-Cic! Come a Empoli, il primo gol della partita è nostro, grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi! Mignanzi allontana dalla porta, evidentemente sta succedendo qualcosa alle sue spalle, Maresca ferma tutto, era stato fatto un avviso tramite lo speaker dello stadio, team manager Alberto Marangon, adesso si riprende, spiega la situazione e purtroppo questo è. Prova ad andare in anticipo, Chia era, attenzione, Samarzic trova il barco, il tiro di Samarzic, il gol! Polesic, Polesic contro Camarà, il cross di Chris Polesic, il colpo di testa di Giroud, è la parata di Okoye! Ancora, ancora, il possesso è per Teuven, Teuven contro Teo, Teuven la mette in mezzo, attenzione, la palla passa, miracolo nostro, allontana Calabria, la palla rimbalza sull'avversario, poi non riesce ad aggiustarsela, Davide, Wallace insiste, Lovric, grande occasione per l'Udinese, quindi Teuven contro Teo, Teuven, Teuven la perde, Teo, no, 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 ma no! Ma no, era palla nostra, gli errori che facciamo a Udine. Vediamo i ragazzi che provano a far succedere qualcosa, Leaube, la palla per Teo, Teo in area, Teo in area la mette in mezzo, una buona idea, il tiro, la palla, gol! 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 Gol di Ovic, gol di Ovic, vediamo se è vero, vediamo se è tutto giusto, tutto vero. Un bell'angolo di Aleflore, un po' di testa, palla lì, gol! Gol! A segno di Ovic, no! Ovic, è lungo là, lungo là, è uscita lungo là, è uscita lungo là! Occhè fuori, occhè fuori, occhè fuori, 2 a 3, la terza maglia come nel 15-16, 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3, è finita, ce ne siamo liberate, 3 a 2, 3 a 2, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao a tutti!